Ciao, sono Roberto Castellino di Gulliver Lab, azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per le agenzie di viaggio. Ti parlerò adesso della necessità di avere contenuti turistici stimolanti e interessanti sul tuo sito. Il concetto da cui partiamo è che bisogna restare costantemente in contatti con i propri clienti e contatti commerciali. La clientela, come tu sai bene, è meno fidelizzata rispetto a prima. Quindi per riuscire a mantenere un contatto è necessario effettuare attività di marketing diretto e indiretto relativamente a offerte, idee di viaggio e proposte turistiche. Effettuando questo marketing i tuoi contatti finiranno su un sito, su delle pagine web che si chiamano landing page che sono fatte apposta per trasmettere un messaggio al navigatore, stimolarlo e fare in modo che ti contatti immediatamente mediante specifiche call to action. Noi siamo in grado di fornirti un sito e delle pagine che puoi aggiungere al tuo proprio per ottenere questo tipo di attività. Le attività di inserimento dei contenuti, cambiamento dei contenuti, di offerte e proposti lo facciamo noi. Non è necessario che modifichi il tuo attuale sito. Vedi questo esempio. Ad esempio questo sito contiene una serie di offerte, una serie di itinerari, degli esempi di viaggi di nozzi, dell'ispirazione di viaggio, la descrizione della destinazione. Se ad esempio vado sull'ispirazione di viaggio mi ritrovo ad avere un motore di ricerca che mi consente di filtrare le ispirazioni per area geografica e per tipologia di viaggio che il navigatore vuole fare. Quindi se per esempio decido che mi interessa andare a Cuba, vado dentro il viaggio nell'ispirazione viaggio della musica di Cuba e troverò una serie di informazioni che mi ispirano. Per esempio la descrizione della musica di Cuba. Che cosa si può vedere andando a fare un viaggio legato alla musica di Cuba? Naturalmente tutte le informazioni turistiche importanti, informazioni utili, lo sapevi che? Alcuni nostri consigli relativamente alla meta. Tutte queste pagine sono delle landing page e cioè delle pagine che consentono al navigatore di avere le informazioni sull'argomento di suo interesse e di poter poi immediatamente contattare un operatore, attraverso il telefono, attraverso la compilazione di un form o attraverso la chat. Ecco, tutte queste cose le puoi avere direttamente sul tuo sito senza fare alcun lavoro.